La grande tradizione di eventi lungo tutto l'anno ad Agropoli continuerà anche per il 2020. Infatti nella riunione della giunta comunale del 21 febbraio è nato il programma Eventi 2020 che parte da marzo con vari eventi sportivi fino ad arrivare al Natale delle Meraviglie che terminerà il 6 gennaio 2021. L'amministrazione guidata dal sindaco Adamo Coppola punterà a sfruttare il grandissimo potenziale turistico che ha Agropoli, destagionalizzando i flussi turistici con eventi e manifestazioni che renderanno la città viva tutto l'anno. Gli eventi cardine di questo cartellone eventi saranno Borgo in Fiore che durerà dal 1 maggio fino al 28 giugno e vedrà il centro storico agropolese totalmente decorato florealmente al fine di renderlo ancora più spettacolare. La 21esima edizione del premio nazionale Agropoli per il teatro, una kermesse teatrale che ormai è diventata tradizione. Il famoso settembre culturale, rassegna letteraria giunta alla tredicesima edizione che ospiterà autori di fama internazionale e ovviamente il Natale delle Meraviglie, fantastico evento natalizio di oltre un mese con cui l'amministrazione punterà a riscuotere nuovamente il successo dello scorso anno. Per Agropoli si prospetta un anno pieno di emozioni.